Bentornato, bentornata Goodly Air. Continuiamo nella descrizione di questo BIOS e ci avviamo quasi alla conclusione delle impostazioni del BIOS ad interfaccia grafica. Ora passo alla descrizione della sezione Monitor, nella quale, come dice la parola stessa, potrai evidenziare alcune funzioni, tra cui la temperatura del PC grazie ad un sensore interno, lo stato di alimentazione in termini di tensioni o cambiare alcune impostazioni delle ventole dissipatrici. La funzione CPU Temperature permette di visualizzare oppure ignorare, quindi nascondere, il valore di temperatura del processore. Lo stesso discorso è riferibile alla funzione Motherboard Temperature. Questa è la schermata della sezione Monitor, infatti potrai vedere in questa sezione la temperatura attuale della CPU, del processore, ed eventualmente anche, se è presente il sensore, la temperatura della Motherboard. Questo, sempre che tu abbia impostato questi parametri su Monitor, nel caso in cui imposti questo parametro su Ignore, automaticamente ti verrà preclusa la vista di questo valore di temperatura. La funzione CPU Fan Speed, invece, visualizza la velocità del dissipatore del processore. Se è presente, invece, una ventola ausiliaria, troverai anche evidenziata la sua velocità grazie alla funzione Chassis Fan Speed. La funzione CPU Fan Profile ti permette di impostare, invece, la velocità di rotazione del dissipatore del processore, in base alla temperatura dello stesso. Che cosa significa? Che la sua velocità incrementerà nel momento in cui il processore raggiunge la temperatura massima impostata e, invece, rallenterà nel momento in cui raggiungerà la temperatura minima che avrai selezionato. Le funzioni, invece, relative a tensioni di alimentazione visualizzeranno, se abilitate, il valore delle alimentazioni fornite alla Motherboard dal tuo alimentatore. Qui possiamo vedere che, se imposti il valore di visualizzazione della velocità delle ventole, potrai visionare il parametro legato alla velocità di rotazione della ventola del processore e, in questo caso, non ce l'hai visualizzato perché non è presente una ventola, ma qualora fosse presente, potrai visualizzare anche la rotazione della ventola ausiliaria. Inoltre, se abiliti la funzione CPU Fan Profile, potrai impostare e quindi legare la velocità di rotazione della ventola del processore, come abbiamo detto, in base alla temperatura. Qui, nella zona inferiore, potrai visionare, invece, le tensioni di alimentazione fornite alla Motherboard. Passiamo ora alla funzione Boot. Ciò che potrebbe interessarti in questa sezione specifica è l'impostazione della schermata di interfaccia del BIOS. Mi spiego. La funzione Setup Mode ti permette di avviare il BIOS, quindi l'accesso al BIOS, partendo direttamente dall'interfaccia avanzata, cioè quella che stai visualizzando in queste slide, in queste diapositive. Se invece vuoi che si visualizza all'atto dell'accesso la schermata basica, dovrai selezionare l'altra funzione Edge Mode. Infatti, da questa schermata della sezione Boot, potrai nella zona Setup Mode selezionare o Advanced Mode, cosicché nel momento in cui accedi al BIOS avrai immediatamente la visualizzazione di questa schermata, oppure selezionando Edge Mode avrai la visualizzazione dell'interfaccia base che hai visto all'inizio di questo gruppo di lezioni sul BIOS grafico. Ora, la funzione Boot Option Priorities permette di definire una priorità dei dispositivi per quei che riguarda l'avvio del computer. Puoi abilitare o disabilitare l'opzione di avvio per quella data periferica ed includerla o meno nella lista del menu di avvio. Naturalmente, se vuoi che venga considerata da BIOS in fase di analisi, in fase iniziale di analisi per avviare il tuo PC, dovrai abilitare questa opzione e soprattutto abilitare eventualmente il dispositivo dove è presente il sistema operativo o comunque un sistema avviabile. Ciò però è da relazionare non tanto al sistema operativo, ma proprio all'hardware del computer. Mi spiego meglio. La norma vuole che, quando il PC si avvia, carica il sistema operativo nella RAM, al termine del quale potrai utilizzare i programmi per raggiungere i tuoi scopi. Tecnicamente, però, un computer può avviarsi e funzionare anche in altri modi, come ad esempio sfruttare i supporti ottici che inserirai nel lettore CD-DVD, in quanto esistono dei sistemi operativi avviabili memorizzati su supporto ottio, quindi su disco. Questi sistemi operativi normalmente si chiamano LiveCD e comunque i LiveCD hanno la particolarità di essere dei dischi avviabili. Se avvia il computer inserendo uno di questi CD o DVD all'interno del lettore, il computer si avvierà caricando il programma che è memorizzato, quindi non installato nel tuo hard disk, nella RAM del tuo computer. A termine del caricamento potrai utilizzare il computer come se avessi installato un tuo sistema operativo, ma questa opzione fornisce, come tutte le cose, tra l'altro, vantaggi e svantaggi. Il principale vantaggio è che potrai avviare un computer anche se bloccato, come ad esempio nel caso in cui il sistema operativo è danneggiato, corrotto oppure contaminato da virus, le famose schermate blu, se ti è capitato qualche volta. Quindi nell'impossibilità di avviare un sistema operativo installato, potrai mettere mano al tuo computer grazie a questi LiveCD e quindi avere l'opportunità di una diagnosi ed eventualmente ripristinare il pieno funzionamento del sistema operativo. Lo svantaggio potrebbe essere quello che la velocità di azioni di questo programma, che ripeto è memorizzato sul supporto e non installato sul disco rigido, potrebbe portare il PC normalmente a lavorare con una velocità inferiore rispetto all'utilizzo del tuo computer se lavorasse con un sistema operativo installato nel tuo disco rigido. Questa delucidazione era d'obbligo in modo da poterti spiegare quale potrebbe essere il motivo per non impostare il disco rigido come dispositivo principale per avviare il tuo computer anche se sullo stesso naturalmente è presente il sistema operativo. Personalmente se il menu di avvio lo consente, imposto questo ordine di dispositivi per avviare il computer. Il primo dispositivo che imposto è un qualsiasi dispositivo USB come una pendrive o un hard disk, un disco rigido esterno. In secondo luogo selezioni, imposto, l'unità ottica, quindi il lettore e masterizzatore ed infine il disco rigido. Questo perché il BIOS all'atto dell'accensione, dopo aver eseguito le sue funzioni di controllo iniziali, individua subito la presenza di eventuali dispositivi USB collegati al PC. Se sono presenti uno o più di questi dispositivi, controlla la presenza di un sistema avviabile e quindi procede al suo caricamento in RAM, altrimenti in assenza di un dispositivo USB o in assenza di un sistema avviabile, prosegue con il secondo dispositivo che in questo caso è l'unità ottica. Senso discorso appena definito. Il BIOS va ad adocchiare se all'interno del disco è presente un sistema avviabile, nel qual caso lo caricherà in RAM, altrimenti in caso di assenza di un disco o in caso di assenza di un sistema avviabile, prosegue nella lettura del disco rigido. In quest'ultimo caso il sistema operativo, ovviamente che sarà installato, il disco rigido verrà caricato nella RAM, a meno che un errore è stato commesso, come ad esempio aver montato due dischi rigidi sul tuo computer, ma nel menu di avvio potresti aver selezionato il secondo disco rigido, quello che non ha installato il sistema operativo, nel qual caso il tuo computer non si avvierà. Come potrei fare per risolvere il problema? Sarà sufficiente impostare l'hard disk che al cui interno ha installato un sistema operativo come prioritario rispetto all'hard disk secondario, passami questo termine, e a quel punto il sistema operativo si avvierà e verrà caricato normalmente nella RAM. Nella schermata del boot di avvio, come abbiamo detto, puoi selezionare dal menu dell'opzione numero 1 il dispositivo di avvio, in questo caso potrai selezionare il lettore o l'hard disk, oppure disabilitarlo. Naturalmente, non avendo collegato alcuna periferica USB, sarà naturale selezionare come primo dispositivo il lettore masserizzatore e, eventualmente, come secondo dispositivo, il tuo hard disk. Qui in basso, nella sezione Boot Override, trovi proprio selezionato quello che attualmente è l'ordine di priorità e come puoi vedere, si parte principalmente dal disco rigido come fonte principale di avvio. Una nota a margine è d'obbligo. Se nel tuo PC, come nell'esempio di prima, sono installati due dirischi rigidi, oppure due unità ottiche, devi portare a conoscenza del BIOS l'ordine di priorità dei tuoi dispositivi. Grazie alla funzione Hard Drive BBS Priorities e CDDVD Drive BBS Priorities, puoi impostare la priorità per il primo o il secondo a disk, oppure per il primo e il secondo DVD, per quel che riguarda le unità ottiche. Quindi dovrai semplicemente decidere e selezionare quale disco rigido presenta naturalmente il sistema operativo e, per quel che riguarda i lettori masserizzatori, quale dei due definisci come prioritario qualora dovessi far uso di LiveCD. La lista dei dispositivi attualmente in uso è evidenziata nella sezione Boot Override. Cliccando sulla freccia accanto a questa funzione, potrai selezionare il nome del dispositivo che ti permetterà di avviare il PC. Quindi nel sottomenu Hard Drive BBS Priorities, potrai selezionare se sono presenti due hard disk, quale dei due naturalmente ha installato il sistema operativo, e invece nella sezione CD DVD-ROM Drive BBS Priorities, potrai dare una priorità all'uno o all'altro lettore masserizzatore. Come dicevo, anche nella sezione Boot Override, hai evidenziata la priorità di uno o l'altro disco rigido, ed ancora per i lettori masserizzatori, in termini di avvio del tuo PC. Nella prossima lezione terminerai le impostazioni di questo BIOS molto grafico. Ora, come sempre, un forte saluto, ciao presto da Carlo e dalla prossima! Ciao!